Ragazzi, oggi è sabato e faccio lezione e oggi salto, quindi farò vedere la mia lezione. Ma prima devo preparare il cavallo. Il video che ho fatto l'altra volta, ho lavorato in piano, invece oggi salto nel campo chiuso. Prima di tutto, una bella pulita Pat. Pat, oggi salto. Pat, oggi sei stranamente pulito. E tu, mi dai una mano a mettere la sella? Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso facciamo un po' di riscaldamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.